Abruzzo d'argento ai campionati italiani maschili e femminili elite di Pescara che si sono conclusi dopo sei giornate di incontri al Palapapa Giovanni. I due pugili che hanno raggiunto la finale, la pescarese Martina Labarbera nella categoria degli 81 kg e il marsicano Medeosauli nella categoria 69 kg, hanno infatti ceduto contro i rispettivi avversari. Labarbera, atleta dell'ASD pugilistica di Giacomo di Montesilvano, è stata battuta ai punti dalla rappresentante campana Sara Di Palma. Oro sfumato anche per Sauli, dell'omonima scuderia di Civitella Roveto battuta ai punti dal rappresentante del Veneto Benacrem al termine di un match molto equilibrato. In chiave abruzzese tuttavia il titolo tricolore è arrivato in campo professionistico. Ieri sera infatti sul ring di Montichiari, l'avezzanese Ivan Di Berardino ha battuto per KO alla seconda ripresa il triestino Fabio Tuiac, riportando in Abruzzo dopo ben 29 anni il tricolore dei pesi massimi. Di Berardino, 37 anni, deve la sua carriera iniziata prestissimo al maestro Ivan Fiorletta.